Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli-Est in direzione Firenze resterà chiusa per lavori nella tratta Empoli-Est-Montelupo-Fiorentino fino al 6 novembre. Coda per lavori tra Empoli ed Empoli-Est in direzione Firenze. Ralentamenti da Ginessa Fiorentina ed Empoli-Est in direzione Livorno. Sul raccordo Siena Bettolde, ralentamenti per lavori tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Poggi-Bonsi Nord e Tavarnelle e tra San Casciano e l'Allaccio con l'A1 Firenze in Pluneta. A Firenze si segnalano disagi alla circolazione in via Varac, angolo via Lori per cantiere e in via Ghibellina, angolo via dei Macci per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!